Ciao, ciao ragazzi, come state? Spero ovviamente che voi stiate super bene, allora ho un periodo un po' di assenza come succede ormai nell'ultimo periodo molto spesso, però i problemi sono sempre quelli, non sono cambiati, concedetemi che nel periodo estivo sia molto più difficile registrare e oggi ho detto registro perché comunque fuori è una bella giornata ma non è troppo caldo, quindi si sta ovviamente bene anche in casa e io a casa non ho l'aria condizionata, ho solo il ventilatore che mi rinfresca, diciamo così, nelle giornate più calde quindi cosa succede? Che mentre registro ovviamente non lo accendo perché altrimenti male, molto male tutto ciò che accadrebbe e quindi diciamo che cerco di fare questi video quando non soffro troppo, quando non è troppo caldo e quando comunque ho voglia di farli allora, 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 oggi cosa faremo? Parleremo della felicità ho in mente di fare una cosa un po' diversa dal solito, oddio, no, in realtà diciamo che tra virgolette questa cosa a volte la faccio ma solo nel momento in cui vi leggo delle storie, oggi invece andremo a fare qualcosa di diverso aspettate, adesso cerco di prendere il tablet senza fare cadere tutto ci sono, eccolo, eccolo, allora ho già aperto l'app, non so come farvela vedere, aspettate un attimo allora, questa è l'app di Pinterest credo che molti di voi, non so se sanno cos'è, però dicendola molto brevemente, in maniera concisa è un'applicazione ricca di immagini che, diciamo, nel momento in cui tu le guardi o comunque fai delle particolari ricerche ti motivano e, diciamo, hai delle ispirazioni ecco, in poche parole è un'app per ispirarti a creare qualcosa a comprare qualcosa che magari ti piace a farti un certo tipo di accogliatura o di trucco o di qualsiasi cosa, insomma oggi noi andremo a cercare insieme la parola felicità 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 e vediamo cosa esce ok in diretta, insieme a voi scusate se a volte sentirete dei cani ma sono sempre quelli quelli che ci sono in tutti i video ormai credo che siano quasi i vostri migliori amici cioè, ormai guardate i miei video per i cani sottofondo non perché ci sono io ovviamente allora cerchiamo la parola felicità felicità allora farò a livello visivo una selezione tra tutte quelle che ci sono poi ovviamente se vado giù ce ne sono altre non pensate che è tutto qua e mi piacerebbe fare questa cosa ossia leggere qualche frase di quelle che ci sono e poi darvi un mio pensiero e mi sembrava un modo carino per conoscerci meglio e per poter affrontare diciamo così comunque analizzare insieme queste frasi quindi se non spatto il naso un'altra volta su questo microfono non sono contenta quindi direi di iniziare allora una di queste frasi dice alcuni portano la felicità ovunque vadano altri quando se ne vanno beh questa è chiara da capire ci sono delle persone che sono perennemente felici quindi le noti in mezzo agli altri perché ti trasmettono positività e poi ci sono altre persone che nel momento in cui se ne vanno tu sei felice credo di aver capito bene alcuni portano la felicità ovunque vadano altri quando se ne vanno esattamente quindi ci sono persone super felici super positive che hanno sempre la felicità dentro di loro e tu le vedi poi ci sono delle persone un po' più antipatiche e nel momento che se ne vanno tu sei felice finalmente non c'è nessun modo migliore di iniziare una frase della felicità in questo modo cioè comunque andiamo avanti allora è già da tempo che non corro più dietro alle persone mi sono seduta lasciando al mio fianco abbastanza spazio per chi vuole sedersi accanto a me beh questa con la felicità sicuramente riguarda il fatto che ci sono molte persone che magari hanno purtroppo o per fortuna come vogliamo dire smesso di cercare 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 sempre gli altri e quindi hanno semplicemente lasciato a fianco a loro lo spazio per chi vuole sedersi veramente e quindi anche questo concetto sono un po' negativi però queste frasi spero di trovare qualcosa di più felice sono riflessioni veramente profonde però diciamo che se non rispetto di nuovo su questo microfono vorrei trovare qualcosa di più allegro ad esempio quando sorridi non c'è nulla da aggiungere mi sembra una di quelle frasi che scrivevamo quando avevamo dodici anni allora poi vediamo un po' più dell'amore a prima vista amo chi inventa occasioni per rivedersi ancora beh questo è collegato alla felicità sicuramente per il fatto che l'amore a prima vista è qualcosa che succede e basta invece quello che programma l'incontro per un'altra volta sicuramente è grande o una grande quindi sicuramente è un modo per essere felici allora quest'altra frase dice a volte sentiamo che ciò che facciamo è solo una goccia nel mare ma il mare sarebbe di meno se gli mancasse una goccia questa è bella non l'avevo mai sentita diciamo che alcune che ho letto in realtà l'ho già sentita perché tanto le abbiamo viste lette e rilette su Instagram o su Facebook però questa della goccia nel mare sinceramente non l'avevo mai sentita quindi ci sentiamo che ciò che facciamo è solo una goccia nel mare quindi è qualcosa di poco di piccolo e di insignificante ma il mare sarebbe di meno senza la nostra goccia quindi comunque se noi non diamo del nostro l'altra cosa sarebbe inferiore non sarebbe uguale come con la nostra piccola parte ci sta è un bel messaggio poi questa è molto bella se la vita ti dà cento motivi per piangere mostrale di averle mille per sorridere e questo aspettate che mi spegno il computer non mi piace questo ad esempio è un concetto che a me piace molto non perché io sia una persona positiva e basta nel senso nella mia vita non ci sono difficoltà non voglio vedere le difficoltà assolutamente perché comunque bisogna essere anche abbastanza realisti nella vita però qui c'è entra il concetto di persona positiva ossia quella che non vede tutto nero per forza ma comunque anche nei momenti difficili si cerca di fare il massimo per superarli e per comunque uscirne vincenti e positivi e secondo me è un bel concetto poi fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa sorridere questa è una frase che è assolutamente azzeccata diciamo diciamo che la prima parte è abbastanza scontata nel senso che è abbastanza logico fare quello che ci rende felice a parte discorse come magari il lavoro della nostra vita questi altri tipi di discorsi però se no in genere facciamo ciò che ci piace è più bella la seconda parte che dice stai con chi ti fa sorridere ossia non perdere tempo con chi ti fa sempre stare male ma stai con chi ti fa stare bene e questo è un concetto che mi piace molto perché quando ero piccola purtroppo diciamo purtroppo comunque mi capitava a volte magari di stare in compagnia anche a scuola di amichetti o amichette che non mi non mi accettavano se così vogliamo dire comunque non mi ci trovavo bene e perdevo tanto tempo dietro queste persone e ci stavo male perché dicevo perché loro non vogliono giocare con me ma perché di qua perché di là insomma mi ricordo che mia mamma me lo diceva sempre mi diceva sempre perché perdi il tempo dietro queste persone stai con chi ti fa stare bene e non importa se sono più grandi di te o se sono più piccoli di te l'importante è che stai con quelli che ti fanno stare bene e quindi questo è un concetto che rimarrà per sempre nella mia vita e tuttora mi ha aiutato ad non avere standard di età o di sì di età o di vabbè cultura questo è logico nel senso io sto bene con tutti ma soprattutto il fattore di età non ho paura ad approcciarmi con persone più grandi di me ad esempio anche ho amiche di 30 anni per dire o 40 anni e non ho nessun tipo di problema nell'approcciarmi con loro perché perché sono persone che mi fanno stare bene quindi è inutile che magari passo per forza il mio tempo con persone della mia età quindi di 20 anni che magari mi stanno antipatiche non ce ne sono però ipoteticamente e magari perdo l'occasione di stare con chi invece mi fa stare bene quindi questo è un concetto che non va sottovalutato poi 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 chi vale non ha bisogno di spegnere la luce degli altri per brillare anche questa frase è già sentita però è è vero una persona che è sicura di sé una persona che vuole starti accanto un amico non ha bisogno di screditarti non ha bisogno di mettere te in secondo piano per dimostrarsi migliore ecco solitamente in realtà la persona migliore è quella che è al tuo stesso livello che non si che non si scredita troppo ovviamente dicendo sono inutile non valgo niente perché sarebbe un peso e nemmeno dice ah io sono il migliore tu non vali niente e così via quindi una persona alla pari ed è bello a me piace molto questo concetto poi 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 vediamo qualcosa 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 cerca qualcosa di positivo in ogni giorno anche se in alcuni giorni devi cercare più a lungo bello questo concetto anche mi piace molto ossia cerca veramente di trovare qualcosa di positivo sempre anche se questo vuol dire che non subito troverai quella cosa super positiva però diciamo che lo vedo più in tanti concetti non soltanto nella positività ossia non bloccarti cioè non bloccarti e pensare che dopo non accadrà più niente di bello ed è un concetto mentale un muro mentale che va veramente cacciato diciamo così che va rotto rovinato vabbè distrutto ecco non mi veniva il termine è importante capire che nella nostra testa solo noi ci creiamo questa linea di fine ma in realtà è tutto 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 un continuo quindi io vedo la positività nella giornata magari lì per lì penso che non ci sia ma se io sto un attimo mi accorgo che in realtà pensandoci meglio c'è qualcosa che mi è piaciuto c'è o ad esempio mi sento sconfitta penso che è tutto finito per oggi ad esempio vi faccio un esempio molto stupido banale ieri parlavo con una ragazza che si chiama Sara e anche lei è un canale smr lei sta vivendo un'esperienza in Irlanda comunque parlando ci siamo le dicevo che ieri non avevo voglia di fare quasi praticamente nulla ed ero proprio down nel senso non riuscivo assolutamente a sbloccarmi e a iniziare a fare qualcosa ok ho parlato con lei ho avuto modo di chiacchierarci un pochino e lei mi ha detto guarda che ci sono delle giornate che può succedere che tu non hai assolutamente voglia di fare niente quindi inizia magari facendo solo una piccola cosa ganando il tuo cervello quindi facendogli credere che puoi 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 oppure semplicemente stacca la spina rilassati e non fare niente perché non c'è nulla di sbagliato in fondo io cosa ho fatto ho provato a fare una o due cose che non mi pesavano e la mia giornata è continuata è continuata e sono riuscita a produrre e a fare veramente tante cose e io nella mia testa prima mi ero bloccata ho detto cioè basta oggi non voglio più fare niente e invece dopo ragazzi è andata benissimo ho fatto un sacco di cose quindi mi ero creata questo blocco solo nella mia mente perché successivamente le cose da fare ci sono state ed è stata una giornata molto bella e produttiva quindi cerca qualcosa di positivo in ogni giorno o in questo caso parlando di positività oppure comunque cerca di concretizzare qualcosa ogni giorno sei fiero di te ogni giorno anche se in alcuni giorni devi cercare più a lungo quindi anche se in alcuni giorni ti sembra che in realtà nulla di tutto ciò che tu hai in mente può essere fatto può essere realizzato aspetta tanti del tempo e sicuramente qualcosa verrà fuori in un modo o in un altro allora ragazzi io direi per oggi di farla finita qua ci sono tantissime altre cose da dire da leggere ma sono infinite qui su Pinterest proprio e con questo cesto di capelli voglio ringraziarvi perché siete sempre qui con me voglio ringraziarvi per il vostro supporto per i vostri commenti 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 che mi lasciate sempre sotto io vi rispondo a tutti avete visto cioè non sono di quelle come dicevamo prima altezzose cioè io sono qui dove siete voi sono anche io e quindi mi piace rispondervi sì rispondervi a volte penso da quante volte sbaglio quando parlo mi sembra di sbagliare ma in realtà non sbaglio si rispeglie il computer e quindi cerco cerco sempre di rispondervi se non vi rispondo magari a dei video vecchissimi passatemela perché poche volte ritorno in video proprio vecchi 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 a guardare se qualcuno mi ha scritto nel senso ci turno però magari do un'occhiata veloce poi mi scordo di rispondere però diciamo nei video in corso ossia quelli che faccio comunque durante il mese cerco di rispondere a tutti quanti allora io vi chiedo di iscrivervi a questo canale se non l'avete già fatto così potete rimanere in contatto con me con noi con questa chiamiamoci community con noi insomma poi attiva la campanellina quella se non vuoi perdere altri video perché comunque questo è un canale piccolino cioè se oggi è la prima volta che mi vedi è molto probabile che domani non mi rivedrai più perché non sono un super canale gigante cioè capisci no? quindi magari per non perderci attiva la campanellina poi voglio chiederti voglio chiedervi insomma di lasciarmi qua sotto la frase che vi è piaciuta di più di questo video e anche il perché quindi il concetto di positività tra tutti quelli che ho letto ditemi qual è quello che vi è piaciuto di più e niente io sono Menka ASMR e questo è il mio canale è il mio canale Grazie.